Gela prende le distanze da Caltanissetta. Ieri sera, infatti, il Consiglio Comunale Stordinario aveva all'ordine del giorno i liberi consorsi. Alla fine dei lavori la decisione è stata netta e inequivocabile. Gela esce dal libero consorzio di Caltanissetta e valuterà l'adesione ad altri liberi consorsi. Il Consiglio ha subito chiarito che con queste regole non potrà nascere nessun libero consorzio in Sicilia, vista la chiara intenzione dei legislatori siciliani a mantenere le nove case province integre ed è stata quindi sottoposta all'attenzione dei consiglieri la possibilità per Gela di cambiare consorzio e dunque innescando un processo che lascia aperte la speranza di una nuova rimodulazione del lente intermedio. Si è aperto quindi un ampio e vivace dibattito dove è stata individuata la linea da seguire e cioè valutare entro dieci giorni le regole necessarie all'uscita da un consorzio e all'adesione ad un altro ma anche la possibilità che altri comuni seguono Gela in questa direzione. Quindi si percorreranno due strade, una giuridica e l'altra politica geografica visto che è stato dato in carica da Gatino Cariola, noto costituzionalista, di seguire da vicino la vicenda.